Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming con un nuovo episodio della serie Proviamolo. Oggi proviamo insieme Shady Part of Me. E questo gioco è uscito recentemente sull'Epic Game Store e anche grazie al consiglio di qualcuno della community che ringrazio, l'ho voluto prendere perché sembrerebbe essere un platform di quelli molto artisticamente ispirati. Quindi da quello che ho visto sembra avere una somiglianza con Little Nightmares però nello spirito più che nella forma vera e propria. Qui sembra quasi una china disegnata e io in genere adoro questi giochi ragazzi quindi sono molto ansioso di provarlo. Ok quindi vi voglio dire anche però una cosa ovvero questa primissima parte io l'ho effettivamente già giocata però purtroppo mi si è corrotto il file, mi ha crashato OBS perciò però è veramente il primissimo minuto ragazzi quindi in realtà è tutto nuovo per me, ok? Ci vediamo presto. Il gioco si apre così eh, non c'è nessun menu né niente. Mi piaceva di più. Quando ero sull'altalena. E qualcuno mi spingeva. Mi piaceva di più. Quando ero a terra. Ok. Qui c'è un cellino da prendere. Dice prova. E nessuno mi spingeva. Sono questi messaggi scritti ovunque ragazzi che sono molto evocativi. Mi piace un sacco la narrazione così. Ero qui ancora. E ancora. Il gioco è estremamente solido ragazzi, cioè la sensazione pad alla mano è ottima. E non spesso è così in questo tipo di giochi. E ho provato ancora. Aspetta. Qui c'è questo che devo prendere. Ok. Ha crashato più o meno qui. Molti tentativi. Dicevano molte, 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 molte cose. Puoi sempre rivolgere tenendo premuto RT. Ok. Sì. Ottimo. Puoi farcela. Forse avevano ragione. Sì, allora è più o meno qua che... Mi ho recuperato. Guardati. Oh mio Dio, che figata è passato. Tipo... Guardate, è tipo passato in tre dimensioni. Cioè, in terza dimensione. Vedete che è sempre un platform, ma... È come se fosse un continuo disegno sul muro. Che tu stai giocando in 2D, ma in realtà si sviluppa in tre dimensioni. Oddio, quanto adoro cose come queste. Cosa mi ha spinto a proseguire? Paura, paura, paura. Wow! Ok. Mi stanno inseguendo i rovi. Di loro. Oh! Ok. Mi si è gelato il sangue, un attimo. Non... Questo è uno di quei casi in cui non so se... Rimanere incantato dalla meraviglia artistica di tutto ciò... Oppure inquietato dal senso di ansia che ti vuole comunicare il gioco. Di noi. Ok. E non ci arriva. Oh! E cade giù. Ok. Che bella sta introduzione. Che bella che è sta introduzione. Sessione numero 2. Tra le ombre. Ok. È passato il prologo. Adesso questo è il gioco vero. Ok. E questo è il gameplay che effettivamente avevo visto. Che mi pare di capire che adesso è in tre dimensioni. Allora. La bambina. Mi sveglio qualcosa ma anche qualcosa... È nuovo. Ok. È questo che mi ha ricordato un po' Little Nightmares. Sì. Stai ancora nascondendo? Non posso andare alla luce. Eh no. Pare di no. Guardate i suoni dei passi. Tip top. Tip top. Nascondermi nelle ombre dove nessuno può... Vedermi. Fatto un sogno bellissimo dove ero al sicuro. Tra le ombre. Perché non c'era luce. Sì. Guardate le parti che si disegnano. Wow. Ho dovuto RT per riavvolgere. Ok. Hai ancora paura? Della luce. Ok. Di solito i bambini hanno paura del buio, non della luce. Sempre testarda. Eh sì. E come faccio a passare? Oh ok. Beh. Sì. Di qua. Aspetta. Ok. Sicuro. Pericolo. Wow. Di qua? Sempre distratta. Sbadata. La porta è chiusa. Che bello che è ragazzi. Grande concentrazione. Parole buone, parole cattive. Eh ma ha senso andare lì? Forse sì perché c'è. Parleranno, diranno, vedranno. Ok. Proverai. Oh. Ok. Aspetta che... Ok. Quelle luci si muovono in un certo modo. Liberi felici con bei disegni. Chi è questo? Non vuole mai giocare. Liberi tristi senza disegni. Ok. Quindi... Ah ok. Quindi devo andare veramente... Ah tra parentesi non avevo visto quello. Aspetta allora, devo prendere questo però... Ancora debole, vai avanti. Ah ok, posso passare di qua. Non me ne ero reso conto. Sì, c'è troppa luce fuori. Essere triste uomo statua. Ok, meglio stare tra le ombre. Ragazzi ha... Oh... Anche le statue si muovono. Guardavano. Giudicavano. Aspetta, ma qui? Lì c'è... Lì c'è un uccellino in fondo. Probabilmente giudicavano. L'uccellino è tipo la nota di speranza. La nota un po' più positiva. Wow. Wow. Eccola lì. Eccola lì. Premi Y per cambiare personaggio. Atto primo. Sessione 3. Di nuovo intera. No. Oh mio Dio. E così posso far andare avanti l'ombra. E magari lei può... I'm the one looking for the exit. Ok. Ragazzi. Voglio fermarmi qui. Per una ragione. Questo gioco voglio giocarlo. Assolutamente. Quindi... Questo è uno di quei casi in cui non vi dico neanche che cosa ne pensate, eccetera. Voglio comunque sapere la vostra opinione, ma io ho già deciso che questo gioco lo voglio giocare. Quindi in un qualche momento spero prima che poi lo troverete come serie completa sul secondo canale. Di solito sono anche brevi questi giochi, quindi voglio portarvelo. Voglio portarvelo assolutamente. Io adoro questi giochi e sono delle bellissime esperienze, perciò... Ho tutti gli elementi che mi servono, davvero. Non mi serve altro. Bellissimo. Bellissimo davvero. Voglio giocarlo. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate, ovviamente. Mi interessa saperlo, ma... Assolutamente. Voglio giocarlo. Sì. Questo era tutto, ragazzi. Quindi una delle puntate della serie Proviamolo in cui giungo immediatamente a una conclusione, quindi anche piuttosto breve, ma... Non mi serve davvero sapere altro. Perciò iscrivetevi al secondo canale, se volete vederlo intero, perché lo troverete intero lì, spero molto presto. D'accordo, gente? Era tutto per questo video. Noi ci vediamo al prossimo. Grazie mille per averlo visto. E come sempre, gente, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale. Seguitemi su Twitch, soprattutto perché ci sarà la serie sul secondo canale in un qualche momento. Lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto. E qui sotto in descrizione trovate, come sempre, tutti i link ai miei video. social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale, il link alla playlist con tutti quanti i video della serie Proviamolo e anche il link per acquistare il gioco. E se lo acquistate tramite questo link, aiutate e supportate moltissimo il canale. D'accordo, ragazzi? A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto.